Milan-Celsi 0-2 il migliore in campo Sibert e voi direte ma chi è questo giocatore del Chelsea? ma veramente aveva la casacca gialla ed è stato il dodicesimo giocatore in campo uno schifo una vergogna partita condizionata da un'espulsione inesistente altri sette cartellini gialli aveva l'orgasmo si vede che aveva l'orgasmo col cartellino era lì il giocatore mio ammoniamolo come godevano questo è uno schifo ragazzi c'è poco da commentare perché dopo quel rigore d'arte che ci può anche stare l'espulsione che non ci stava Umberto si è incazzato Umberto arbitro il migliore in campo giusto? credo che sia uno dei migliori in campo l'arbitro gli direi 9 9 e a sua madre con la fia di zoccola 5 io rimango anche un po' più soft perché sennò realmente li ballano il canale stasera comunque complimenti alla UEFA mafia complimenti davvero a questo schifo che vogliono fare contro il Milan e ne è successo anche lo scorso anno con l'Atletico Madrid abbiamo capito tutto io non ho nulla da rimproverare ciao Corrado non ho nulla da rimproverare ragazzi purtroppo una partita condizionata da un indecente che è arbitrato uno schifo di arbitraggio non ho proprio niente da commentare poi la partita è andata come dicevo oggi andrà tutto liscio tutto liscio per la mafia della UEFA complimenti intanto biscottone Paris Saint Germain Benfica Juventus semi fuori ragazzi buona serata ci rivediamo domani in ogni caso sempre forza mila venuto bene ciao